Nella vita bisogna saper aspettare. Prima o poi qualcuno passa. Qualcosa succede. Mettetevi comodi e cominciate ad aspettare sciogliendovi sotto il sole come granite al limone. Aprite bene gli occhi, le orecchie e soprattutto il vostro cuore. Basterà una scintilla, un bagliore rosso. È il vestito di donna bella che attraversa la piazza. Sono le sue gambe, i suoi fianchi, la spallina che scivola giù, il frutto più dolce. Lei è la femmina delle une, di Botanburo, il fuoco nelle sue linee, il calice più amaro. Cuore scatenato. Un film di Gianluca Sodaro.